Di Massimo Troisi sappiamo che non si è mai sposato e non ha mai avuto figli, da piccolo fece da testimonial per una pubblicità della Meldin, ma più di tutti era un grande attore napoletano che ha fatto conoscere all'Italia e al mondo una napoletanità diversa, priva di pizza, spaghetti e mandolino, eppure spesso espressa in dialetto reso più vicino all'italiano per facilitarne la comprensione a un pubblico più vasto. Ciao, sono Valerio Novara, oggi vi parlo di uno dei più grandi attori italiani che ci ha lasciato sicuramente troppo presto e che è Massimo Troisi, oggi, il 18 febbraio, si festeggerebbero 70 anni della nascita e lo vogliamo ricordare con alcuni aneddoti e curiosità che riguardano la vita di quest'attore e di come è diventato uno dei più grandi attori napoletani della storia del cinema italiano e anche internazionale. Troisi, insomma, inizia la sua carriera nel mondo del teatro, come abbiamo detto, la mamma lo fece partecipare a una pubblicità della Mellin, nella quale già da bambino si vedevano la sua mimica facciale e la sua predisposizione alla recitazione, ma fu con il trio De Caro, Troisi e Lello Arena che, insomma, l'attore visse i suoi inizi nel mondo del teatro. Iniziò con questi due grandi attori al Teatro San Carluccio di Napoli e la loro prima interpretazione fu per sostituire uno spettacolo annullato e poi fece successo, insomma, la loro interpretazione e alla domanda, ma come vi chiamate? Troisi fece una smorfia perché i tre non avevano ancora scelto un nome, anzi si chiamavano i Saraceni prima di scegliere il nome La Smorfia. Lui fece questa espressione, La Smorfia, e insomma, venne affibbiato questo nome a questo trio per gli spettacoli che si sarebbero susseguiti successivamente e che rimanda anche alla smorfia napoletana, alla tradizione della tombola napoletana. Ricordiamo tutti però il suo primo film di successo, che è Ricomincio da tre pensate, fu uno dei film rimasti più a lungo nelle sale italiane e fu un successo senza precedenti. Il film è costato circa 450 milioni di lire, pensate che incassò ben 14 miliardi, e che portò all'attore e insomma al film due Golden Globe, due David di Donatello e tre nastri d'argento. In Ricomincio da tre, Troisi affronta tantissimi temi che all'epoca erano attualissimi, l'amore, l'amicizia, la malattia mentale, il successo e il fallimento. Addirittura in quell'anno, Ricomincio da tre, ebbe successo ed ebbe la meglio su un colossal del cinema americano come Guerre Stellari. L'impero colpisce ancora, pensate. C'è poi, scusate il ritardo, e negli anni 80 la collaborazione con Roberto Benigni in Non ci resta che piangere, con l'iconica scena di Un fiorino che ricordiamo tutti col sorriso ogni volta che la rivediamo. Nel film Non ci resta che piangere, ci sono poi una serie di riferimenti come alla lettera, che scrivono insomma i due a Savonarola e riferimento a Totò e Peppino, e loro si ritrovano catapultati nel 1492 a pochi giorni dalla partenza di Cristoforo Colombo per l'America, per le Indie anzi, che poi avrebbe scoperto l'America, e i due cercano di fare modo e maniera per impedirglielo. Il film è bellissimo sia dal punto di vista della novità, insomma, di Un viaggio nel tempo, Un ritorno nel passato. È stato uno dei primi film italiani che hanno esplorato il viaggio nel tempo. Ci sono poi dei film che sono passati un po' sotto traccia, come pensavo fosse amore, invece era un calesse, la profonda amicizia di Troisi con Pino Daniele, e anche lui è venuto a mancare, e per arrivare alla consagrazione e purtroppo anche alla morte dell'attore con il film Il Postino. Diciamo subito che Troisi fin da piccolo aveva sofferto di problemi cardiaci ed era in attesa di un trapianto, di un nuovo cuore, e durante le riprese del Postino venne, insomma, subì diversi interventi che lo portarono poi ad avere un attacco cardiaco prima della fine delle riprese. Il Postino esce nel 94, racconta la storia di questo ragazzo, Mario Ruoppolo, che tutti i giorni deve consegnare la posta al poeta Pablo Neruda su un'isola del sud Italia. Pensate che in alcune scene del film talmente era provato dalla malattia Troisi che dovette farsi aiutare dalla sua controfigura, da un altro attore, per girare alcune scene che a lui risultarono faticose. Una delle cose più belle che ci piace raccontare è che il film venne candidato addirittura a cinque premi Oscar, tra cui miglior attore, miglior film, ma vinse solo, solo, tra virgolette, per La colonna sonora, un film che è rimasto, insomma, nella memoria di tutti i cinefili e che lascia un grandissimo ricordo di un attore che ha fatto davvero la storia del cinema italiano e internazionale. Prima, insomma, della fine delle riprese, Troisi decide di organizzare una cena, insomma, insomma, insieme alla troupe e al cast del Postino, in cui fa un discorso che è rimasto, insomma, iconico e che termina con Non dimenticatemi. Non dimenticatemi, l'attore morirà pochi giorni dopo con un filo di voce sofferente e alla vigilia della sua scomparsa l'attore aveva deciso di salutare così la troupe che si era riunita per terminare le riprese. Scrivetemi nei commenti qui sotto qual è il film di Massimo Troisi che vi è rimasto più impresso e quale, insomma, vi è piaciuto di più e che portate nel cuore e qual è il primo che vi viene in mente se sentite nominare il nome di Massimo Troisi. Vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per non perdervi tutte le notifiche che riguardano i nuovi video, c'è a che azione. Vi consiglio di seguirci anche su Facebook dove quotidianamente pubblichiamo notizie e news che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv e anche su Instagram dove ogni giorno, insomma, parliamo della passione che ci contraddistingue sul cinema, la televisione, sul gossip e i personaggi di un mondo che, insomma, non morirà mai. Un grande Massimo Troisi era doveroso ricordarlo e io vi do appuntamento al prossimo video.